Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con una breaking news in A12, 5 km di code a tratti per lavori tra Carrara e Sarzana in direzione di Genova. In A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Firenze e Scandici e Via 1 Variante. In A11 restano code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. E arriviamo in Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze e Scandici. Troviamo inoltre code a tratti per lavori sempre verso Firenze tra San Miniato e Tempoli Est. In carreggiato opposto, rallentamenti tra San Miniato e Santa Croce. Ancora coda in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, prudenza per probabile presenza di materiale in carreggiata in via Cesalpino. Buon amersi in Toscana Info e Servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.